Ciao a tutti e bentornati sul mio canale, prima di tutto voglio dirvi grazie a tutti per il sostegno che ci state dando la nostra community ci fa crescere e di questo sono davvero molto contenti e voi continuate a sopportarci perché se abbiamo una community positiva più ci aiutate a crescere, più possiamo portare nuovi contenuti e nuovi format signori, chi ama il calcio in questo momento è contento, vero? perché ogni giorno c'è una partita diversa serie A, serie B, Champions, Europa League, Confresh League si gioca parecchio e chi ama il calcio è contento perché ha diverse partite da vedere però alla fine, tutte queste partite, il gioco ne vale la candela voi dite perché? perché semplicemente, signori, mi avete visto quanti infortuni la Juve perde Bremer per tutta la stagione il Manchester City perde Rodri il fulco del centrocampo del Manchester City l'Atalanta perde, ha perso Scamacca in inizio campionato e lo recupera per l'anno nuovo il Barcellona perde Stegager e alla fine, tutte queste partite, ne vale la pena? o forse è meglio avere meno partite meno stressare i giocatori e vedere partite spettacolari voi nel frattempo iscrivetevi al canale attivate la campanella così non vi perdete niente supportateci con un mi piace, commento in descrizione per voi è tutto gratis per noi fondamentali perché cresciamo come canale più cresciamo più portiamo contenuti più portiamo formati vi raccomando supportateci anche nel secondo canale dei quanti fu ex che lì parliamo di tutto tranne che di calcio abbiamo anche dei controlli social tutto quello che creiamo è creato da noi vi faccio un esempio banale giovedì giovedì c'erano 50 partite ma di queste 50 partite quante partite erano da vedere? altra domanda la Roma chi se l'ha vista la Roma con quella squadra di scappati di casa che erano muratori forse se l'ha vista i tifosi della Roma la cosa bella qual'è? che la Roma ha perso oppure la grande Champions il nuovo format tutti contro tutti le big si affronteranno già subito ma quale big si affronteranno subito? ma quale big? poi se a qualcuno piace vedere le partite che finiscono 8, 9, 10 a 0 un altro conto forse è meglio ridurre le partite e rischiare al minimo gli infortuni perché? perché oggi signori miei la Juve perde a Bremer il Manchester City perde a Rodri e così via e non è detto che più avanti andiamo e non ci siano altri infortuni poi c'è gli infortuni come che ti rompi il crociato e finisci la stagione abbiamo infortuni muscolari abbiamo traumi e allora dobbiamo capire cosa vogliamo vogliamo avere più partite o vogliamo avere partite di qualità? perché io vorrei vedere una partita di qualità una Juve che affronta il Manchester City con il Manchester City al completo con Rodri è una Juve al completo perché oggi la Juve non è più al completo perché se la Juve perde un pilastro fondamentale della difesa vuol dire che la Juve che è stata costruita non è al completo come l'Atalanta che gli manca a Scamacca si è andata a prendere Tegri però non sono la stessa identica cosa Rodri che oggi è il centrocampista più forte al mondo e lo torniamo a dire Rodri ha oggi il centrocampista più forte al mondo che per me meriterebbe di vincere il pallone d'oro manca al Manchester City si parla che il Manchester City vuole Rich ma non è la stessa identica cosa però chi comanda il calcio il signor Gravina fra virgolette che Gravina non comanda neanche la FIGC ma parliamo del signor Ceferin parliamo del signor Infantino invece di ridurre le partite cosa fanno cosa fanno fanno nuovi tornei come il Mondiale per Club a squadre e la genialità qual è che fanno un'altra finestra di mercato perché le squadre che fanno la Champions che faranno il Mondiale per Club avranno una finestra a giugno che possono acquistare i giocatori ma che minchiata è questa come dobbiamo abbassare i costi e voi fate un'altra finestra di mercato perché perché dobbiamo fare il Mondiale per Club ma stiamo scherzando stiamo scherzando dobbiamo semplicemente ridurre le partite la Serie A basta portare 20 squadre che vediamo partite inutili gli ascolti li rivedete i dati li vedete bisogna ridurre le partite la Serie A bisogna portarla a 20 questo format può essere bellissimo della Champions però dobbiamo diminuire altre partite la minchiata della National League la mandiamo a casa perché ora si ferma la nazionale per la minchiata della National League chi diavolo se la vede mi dovete dire chi se la vede chi se la vede addirittura voi voi immaginate talmente che è importante Deschamps non convoca Mappé Giovanni Tedesco talmente questa National League è importante non convoca Lukaku perché qualcuno mi dice Lukaku ha rifiutato perché non è pronto come non è pronto gioca con Napoli però essendo che vuole trovare la condizione e la National League è una minchiata perché lo torno a dire la National League è una minchiata i cittadini fanno finta di niente dicono guardate noi per l'amichevole per la National League non l'abbiamo preso abbiamo deciso di non portare i giocatori e si fanno belli con le società dobbiamo diminuire le partite per il bene dei giocatori perché tu perdi un giocatore è un danno per la società è un danno per Manchester City è un danno per l'Atalanta faccio l'esempio dell'Atalanta l'Atalanta aveva un'idea di mercato voleva portare avanti la sua idea di mercato si è rotto il crociato o Scamacca ha dovuto cambiare completamente completamente la sua regola le sue idee di mercato è andata a prendere Teg che fino a ora fino a quel momento non aveva le Teg in testa la Juve oggi deve pensare per esempio se prima doveva pensare di trovare un sostituto di Milik perché Milik è un altro che si è perso ora deve decidere se andare a prendere l'attaccante o il difensore non sono spese non sono conseguenze di cose di troppe partite di campi che alcuni campi di calcio sono campi di patate e allora caro Ceferin caro Infantino invece che di inventarvi altre stronzate altri tornei come l'apertura di un'altra finestra di mercato come l'altra minchiata scusate che oggi proprio è uno sfogo il cartellino blu il cartellino blu perché noi ci inventiamo per migliorare il calcio il cartellino blu diminuiamo le partite portiamo non vi dico che lo dobbiamo diminuire al 50% ma almeno un 30% per vedere più partite di qualità per fare riposare forse qualcosina in più i giocatori perché vi faccio un esempio lampante Lautaro Martinez ha fatto un campionato con l'Inter ha fatto la Coppa America e dopo una settimana ha fatto una settimana di riposo e poi è tornato a fare il campionato ma è normale? secondo voi sono robot sono uomini voglio vedere lo spettacolo o conta solo fare più più soldi possibili incassare più soldi possibili perché oggi secondo me conta più uno spettacolo conta vendere un prodotto migliore conta la tutela dei giocatori e per tutelare i giocatori ci vogliono meno partite ora vediamo ditemi la vostra sotto nei commenti ci vediamo pomeriggio nel post conferenza stampa di Tiago Motta e vedremo cosa deciderà la Juve se andrà sul mercato oppure deciderà da qui a gennaio di restare con me con i suoi quattro difensori centrali ciao e tuteliamo i giocatori ditemi la vostra musica